Cari amici di Maria, buona giornata a tutti. Sono le 9.07 di giovedì 23 marzo 2023. Pace e gioia a tutti voi, cari amici in ascolto, e che la luce della parola di Dio guidi i nostri passi nel corso di questa giornata sulla via della verità, del bene e sulla via della pace. Andiamo al nostro programma, la lettura cristiana della cronica della storia. Apriamo come sempre con un nostro pensiero spirituale. Cari amici, anche oggi vogliamo approfondire il messaggio che ha dato la regina della pace a Mirià di Meggiugorie il 18 marzo del 2023, un'occasione della sua apparizione annuale. La Madonna ha usato una espressione che nei messaggi a Mirià ha usato più volte, che è quella dei cuori puri e aperti. E tant'è vero che a Meggiugorie poi si è creata anche un'organizzazione lì locale, chiamata cuori puri, insomma, a indicare come questo messaggio, questa espressione, abbia inciso anche nell'ascolto delle persone. cosa vuol dire la Madonna avere i cuori puri ed aperti? Vuol dire che, vuol dire che in questo caso lei lo riferiva al fatto di imparare ad ascoltare suo figlio, imparare ad ascoltare quello che dice suo figlio, perché ovviamente se i cuori sono puri, i cuori sono aperti, quello che le parlo di Gesù vengono accolte su un terreno fertile e producono frutti. Invece, cari amici, con i cuori sono, con il cuore, l'opposto dei cuori puri ed aperti sono i cuori sudici, una volta usato in un'espressione del genere, la Madonna, inquinati dal male e chiusi. Allora, questo, cari amici, un invito, anche in questo tempo del cammino di conversione che noi stiamo facendo, è un'esaltazione a guardare dentro i nostri cuori come sono, perché poi, come sappiamo, lo dice anche la Sacra Scrittura, Dio non guarda tanto alle opere esteriori, sì, anche a quello, ovviamente, ma guarda soprattutto al cuore, al cuore della persona, poi ovviamente se il cuore della persona è puro ed è aperto, le opere esteriori sono, come dire, sono dei fiori veri, fiori freschi, per così dire. Se invece, se i cuori non sono così, cioè sono chiusi e inquinati dal male, le opere esteriori sono come i fiori di carta, insomma, sono quelle che appunto, con le espressioni che Gesù ha usato nei confronti degli iscriviti farisei chiamando i sepoltri imbiancati. Allora, intanto cominciamo con l'essenziale di questo messaggio, cari amici, cioè la conversione è un evento del cuore, prima di tutto, cioè la conversione è un cambiamento del cuore. Il cuore nella concezione biblica molte volte sostituisce anche la parola anima, cioè viene considerato come il centro spirituale, morale dell'uomo nel quale l'uomo può ascoltare la voce di Dio, è il luogo del combattimento spirituale dove appunto c'è quella lotta fra ciò che è in noi, quel male che è in noi, che è la concupiscenza, retaggio del peccato originale che ci rimane anche dopo il battesimo, che in sé non è peccato ma spinge al peccato e quindi nel cuore c'è questo combattimento spirituale per cui man mano questi semi che abbiamo ereditato da Adamo producono i frutti dei vizi capitali, i frutti delle opere malvagie, dei pensieri malvagi, dei comportamenti malvagi e se non vengono estirpati fin dall'inizio, fin da quando sono dei piccoli germogli, ovviamente prendono forza, mettono radici, occuono il cuore e il cuore diventa un cuore di ripere, diventa il luogo dove Satana instaura il suo dominio. Allora cari amici, al di là di tutto, se vogliamo fare un esame di coscienza, dobbiamo considerare proprio la situazione esistenziale del nostro cuore e vedere se, prima di tutto, una check up che è fondamentale, cioè il cuore da chi è abitato, cioè chiederci da chi è abitato il nostro cuore e se siamo in peccato mortale e un peccato mortale fatto con piena avvertenza, materia grave, piena avvertenza e liberato consenso, se il cuore quindi è in uno stato di peccato è abitato dal maligno e quindi che grazie al peccato ha preso il diritto di dimora nel nostro cuore e quindi cari amici, se dovessimo vivere e morire in questo stato di un cuore occupato dal maligno siamo come un ramo secco che non produce frutti di vita eterna e più dura questa situazione di chiusura si rischia di cadere nell'abisso dell'impenitenza finale, quindi di morire in penitenti, il che vuol dire la perdizione eterna, quindi queste sono verità di fede inoppugnabili, sono il cuore stesso della morale cristiana e della fede cristiana. Quindi la prima cosa da fare se il nostro cuore è in stato di peccato mortale è quella di nella luce di Dio, nella luce della sua grazia, nella luce della sua misericordia fare quel lato di umiltà, perché il cuore indurito è un cuore accecato, l'abbiamo già visto tante volte, l'abbiamo già visto anche nel messaggio di Miriana dove la Madonna ha fatto proprio riferimento al Vangelo del giorno che era quello del ciconato e lì la Madonna parla chiaramente di ascoltare suo figlio per riacquistare la vita spirituale, cioè cosa ci dice suo figlio? Ci dice che dobbiamo aprire i cuori e purificarli, allora se i cuori sono chiusi, sono inquinati e sono chiusi, cari amici, sono quindi in stato di peccato, è necessario, sono accecati anche, quindi sono in una situazione di pericolo, pericolo spirituale sicuramente, sono in una situazione di morte spirituale, perché il peccato mortale dà la morte spirituale e lì la grazia preveniente che va al di là di qualsiasi considerazione, perché Dio vuole che tutti si salvino e giungano alla conoscenza della verità, quindi la grazia che Dio dà ai peccatori perché si ravvedano e perché si convertano, questa grazia è una grazia totalmente gratuita, perché chi è in stato di peccato e accecato neanche se ne rende conto, neanche se ne accorge, va avanti in perterrito verso l'abisso, però per l'interzione di Cristo, di Maria, della Chiesa, delle anime che si dedicano con cuore, con zelo alla conversione dei peccatori, come ha chiesto la Madonna in particolare, ha chiesto che le vuole anime che preghino per i non credenti perché si convertono e aprono i cuori, è chiaro che questa grazia è necessaria perché chi è stato di peccato mortale ed è accecato non può fare niente, non può fare niente, cioè si incomincia a sentire, come ha sentito Giuda per esempio, l'inquietudine, incomincia a aprire gli occhi e vedere l'orrore che ha compiuto, cioè l'inizio della conversione e questo è un dono di grazia assoluto e guai a noi se non approfittiamo di questo dono di grazia, sforzandoci di corrispondere a questo dono di grazia e quindi di aprire gli occhi sulla nostra situazione esistenziale dei peccatori e quindi, come dice la Madonna, inginocchiarsi davanti alla croce, vestiamoci degli abiti penitenziali, dice la Madonna, che sono, che cose gli abiti penitenziali sono, sono, diciamo, la consapevolezza del male compiuto e quindi la richiesta di perdono, la richiesta della grazia del perdono, dal profondo grido a te, oh Signore, Signore ascolta la mia voce, gridavi Re Davide dopo che il profeta Natam gli aveva aperto gli occhi sui suoi peccati che erano gravissimi, quelli di Davide, omicidio, adulterio. Quindi, cari amici, c'è la grazia preveniente, la grazia che ci viene data gratuitamente e io mi auguro che ci sia tanta preghiera anche da parte dei nostri ascoltatori, perché i peccatori si convertano, perché i non credenti si la vedino, aprono gli occhi, perché alla fine poi se si perde la propria anima si è perso tutto, si è persa la partita dell'esistenza, perché l'inferno è eterno, come ha detto la Madonna, le anime laggiù non vogliono la conversione, non vogliono Dio, siamo come diventiamo una sola cosa con l'inferno e col suo proprietario che è il diavolo. Dunque, cari amici, questo è il primo passo perché i cuori diventano puri e aperti. Vorrei dire, prima di tutto l'apertura del cuore per ascoltare la voce di Dio, il richiamo di Dio alla conversione, la voce della coscienza che ci rimprovera il malefatto, sentire gli inviti dello Spirito Santo, gli aneliti dello Spirito Santo che opera per la conversione, per una vita nuova, una vita di grazia, il rimorso per i peccati commessi, l'orrore per il male commesso, il fastidio per il male, sentire l'odore di marcio del peccato, che Saddam ci presenta come se fosse qualcosa di bello, di lodevole, di appetibile, poi in realtà, come dice la Madonna, ci uccide, ci distrugge con quello che ci offre. Quindi, prima di tutto, l'apertura del cuore e poi considerare i sedimenti del male, che sono i vizi che abbiamo, i peccati mortali che abbiamo commesso, specchiarci nei dieci comandamenti, specchiarci nei sette vizi capitali, la superbia, la avarizia, la russuria, l'ira, l'agora, l'invidia, l'accidia, specchiarci nella triplice concupiscenza, quella della carne, quella degli occhi, la superbia della vita. Insomma, cari amici, nella luce di Dio, vedere il male commesso, offrirlo a lui, alla sua misericordia, perché lo distrugge nel suo amore, e poi il passo importantissimo di decidere di non peccare più, decidere una vita nuova, decidere la conversione. Questa decisione dobbiamo molto considerarla nella preghiera, cioè farla maturare dentro di noi, in modo tale che non sia una velleità, ma sia qualcosa che coinvolge veramente tutto il nostro essere nella decisione, perché siamo decisi, siamo determinati, siamo inflessibili nel dire basta al male, basta al peccato, basta Satana, replicare col cuore più volte al giorno la nostra rinuncia al peccato e al male, e poi, cari amici, la grazia immensa della confessione sacramentale, nella quale noi presentiamo il nostro male a Gesù Cristo, rappresentato dal sacerdote. In questa luce il sacerdote ci dà dei consigli, ci dà delle esortazioni, ci incoraggia e ci dà soprattutto la soluzione in nome di Cristo e ti assolvo da tutti i tuoi peccati. In quel momento, cari amici, il nostro cuore diviene puro e aperto e quindi, come dire, diventa di Cristo, diventa proprietà di Cristo, diventa sede di Cristo, diventa tempio della Santissima Trinità, cari amici. Questo è quello che vi auguro di realizzare, se non l'avete ancora realizzato, perché la cosa più importante è questa, perché con la vita di grazia si è figli di Dio e diventiamo anche strumenti di bene, diventiamo anche apostoli di Cristo, diventiamo anche apostoli di Maria, diventiamo membri vivi della Chiesa e non membra a secche della Chiesa, diventiamo, entriamo a far parte della grande famiglia dei figli di Dio, insomma, quindi questa è una, come dire, una realtà che poi possiamo ottenere corrispondendo alla grazia, dipende da noi. È una realtà che si può acquisire questa ricchezza immensa, questa gioia immensa in poco tempo, non devono spendere niente, devono avere il coraggio di guardarci allo specchio della parola di Dio che ci dice qual è il bene e qual è il male e quindi uscire fuori dalla palude del mondo, dalla palude dove le persone annegano uno dopo l'altra. Uscire fuori con l'aiuto della grazia, cari amici, è quello che è la prima cosa da fare se vogliamo prepararci ai tempi della prova è da fare in ogni caso perché se la morte ci coglie in uno stato di cuore chiuso c'è proprio una grazia speciale per non perire eternamente. E quindi in particolare ora che andiamo verso le grandi prove che riguardano la fede e anche che riguardano la nostra fedeltà a Cristo e alla Chiesa, la nostra militanza cristiana, è necessario fare questo passo di avere i cuori puri ed aperti in modo tale da riacquistare la vista spirituale. Bene carissimi, questo dunque era il pensiero che vi ho coltivato, diciamo, ho coltivato queste due bellissime espressioni della Madonna, cioè cuori puri ed aperti. Adesso andiamo, creiamo, diciamo così, negli eventi del giorno. Vorrei incominciare, cari amici, proprio con il ricordo che ha fatto ieri il Papa, Papa Francesco, ha ricordato nella udienza generale la consecrazione che è stata fatta l'anno scorso, il 25 marzo, la consecrazione della Ucraina e della Russia al cuore immacolato di Maria. È stato un evento molto importante. Poi, quell'evento è stato pilotato, possiamo dire, dalla Madonna in un modo particolare, direi, senza che, cioè, il Papa molto semplicemente ha collocato il momento della consagrazione senza senza saperlo. Penso proprio nel momento in cui c'è l'apparizione della Madonna a Međugorje. Quindi, nel momento in cui il Papa faceva la consagrazione, ecco che la Madonna, nella visione, nell'apparizione quotidiana del 25 del mese a Maria, ha dato il messaggio, è aperto il messaggio dicendo «Ascolto il vostro grido». Cioè, il grido di chi? Il grido della Chiesa. Il grido di quelli che la Madonna ha chiamato nel messaggio ultimo a Miriana «l'unico popolo di Dio». E chi è l'unico popolo di Dio? È la Chiesa Cattolica. È la Chiesa Cattolica intorno a Santo Padre, con i vescovi di tutto il mondo uniti, con i vescovi di tutti i mondi uniti, che il 25 marzo del 2022 ha fatto questa consagrazione, che poi era una consagrazione della Russia e dell'Ucraina, ma anche del mondo intero, al cuore immacolato di Maria, per avere il dono della pace. E la Madonna ha detto «Ascolto il vostro grido». Allora, il Papa ieri l'ha ricordato, questa consagrazione. Io ricordo invece, perché lo posso fare ovviamente, quello che ha detto la Madonna, «Ascolto il vostro grido». Però a questo punto sorgono delle domande. Però da quel momento, come sappiamo, la guerra è davanti, per grazie di Dio e per l'aiuto che ha avuto il popolo ucraino, non è stato distrutto, però è stato ampiamente provato. Tutta la popolazione, il Papa giustamente ricorda ogni volta che può, lo fa, ci ricorda le sofferenze di questo popolo di cui ci siamo già dimenticati. Noi ci siamo già dimenticati. È già entrata nelle nostre case l'indifferenza, insomma, è quasi fastidio. Proprio pensiamo a tanti civili uccisi, a tante case distrutte, a tanti bamire, portati via. Insomma, anche quest'inverno è passato senza praticamente riscaldamento, senza elettricità e senza carenze di beni fondamentali. Insomma, una tragedia che si aggiunge alle tragedie che questo popolo ha subito nel passato. Sappiamo che cos'è l'Olodomor, questa tragedia del popolo ucraino con 4 milioni di morti di fame ai tempi di Stalin. Quindi, cari amici lucidi, ci chiediamo, la Madonna ha detto, ascolti il vostro grido, però a quanto pare la guerra è andata avanti, le sofferenze sono accresciute e diciamo la guerra adesso ha assunto connotati diversi da quelli iniziali, con la visita del leader cinese Xi Jinping a Putin, che di fatto la proposta di pace della Cina lascia il tempo che trova, se la si legge bene. Cioè, in realtà è stata, non è neanche stata oggetto di discussioni al Cremilino, ovviamente, che in questo momento non è affatto interessato alla pace, per la verità neanche l'Ucraina in questo momento è interessata alla pace. In realtà questo sforzo che hanno fatto questi due personaggi è stato un messaggio al mondo, cioè un messaggio al mondo, specialmente i paesi non allineati, per me tutto i paesi non allineati, è un messaggio dove si dice in pratica noi due siamo quelli che governeranno il mondo di domani, schieratevi dalla nostra parte perché vinceremo noi. ovviamente due potenze nucleari di questo genere, poi anche le risorse immesse dalla Russia, poi le risorse demografiche tecnologiche e finanziarie della Cina, ovviamente sono certamente in grado di diventare padroni del mondo, ma a un prezzo di portare il mondo alla fine, alla distruzione. Quindi questo sforzo che hanno fatto ieri di se stessi, sembrano due burattini con il bicchierino in mano, non so che liquore era, se era un liquore, se era prosecco o se era vodka, non lo so, ecco, che brindano in mano, a che cosa brindano, non lo so, cioè è stato uno spettacolo, uno spettacolo funebri, cioè uno spettacolo funebri che aveva qualcosa di diabolico, per carità, non dico che gli altri siano dei santi, ma lì era proprio chiarissimo, uno spettacolo lugubre che sapeva diabolico, cioè gli aspiranti a diventare i padroni del mondo, ovviamente al posto di Dio, perché Putin, si sa benissimo qual è la religione di Putin, di usare il cristianesimo, di usare il cristianesimo per ovviamente forza politica, asservita l'obiettivo che è quello di riportare l'Unione Sovietica, riportare la sua Russia ai livelli o anche superiori dell'antica Unione Sovietica, quindi da parte anche gli appetiti della Cina li conosciamo tutti, volevano mangiarsi i Giapponi, le Filippine e tutto quello che volete voi e magari mangiasse anche un pezzo di Russia, quindi uno spettacolo raccapricciante che fa anche paura in un certo senso, con ciò non voglio dire che l'Occidente è presente uno spettacolo migliore, però insomma perlomeno i leader dell'Occidente non sono dittatori e possono anche cambiare da un momento all'altro, se qui no, ambedue si sono autoeletti a vita. Allora, quindi cosa volevo dire, dove volevo arrivare? Volevo arrivare che sembra alla fin fine che cosa? Sembra alla fin fine che quello che ha promesso la Madonna non si stia avverando, cioè sembra che quello che ha detto la Madonna, ascolto il vostro grido, non si sta avverando, anzi sta peggiorando, la situazione si peggiora sempre di più, difatti la Madonna come sappiamo nel corso del 2022 all'inizio del 2023 ha fatto le affermazioni più più drammatiche riguardo la situazione spirituale dell'umanità, spirituale proprio, perché qui siamo attenzione, non siamo alla guerra fra Occidente e Oriente, questa è un'epifania di un'altra guerra più profonda che è quella dell'umanità contro Dio. Allora la Madonna ci ha spiegato come, ci ha detto, come nel corso di questi mesi e la corsa dell'umanità verso l'abisso sia accelerata perché sempre più l'umanità si allontana da Dio, difatti nel messaggio, diciamo, traumatico. Qualcuno dice a me che io do notizie traumatiche, no, io che dice la Madonna, anzi addolcisco un pochettino, anche la Madonna addolcissima, figlio di cari, quando la Madonna dice l'umanità ha scelto per la morte c'è poco da addolcire, questo l'ha detto il 25 ottobre, l'umanità ha scelto per la morte, dove la parola morte ha il significato radicale che ha nella visione cristiana, perché la Madonna quando parla, parla biblicamente, e cioè chi sta a indicare la morte spirituale, quindi la perdizione eterna e la morte su questa terra. Cioè quando Dio ha condannato Adamo ed Eva alla morte, morrai, la morte era spirituale e fisica perché aveva un'immortalità l'ha perso Adamo ed Eva. Quindi cari amici, la situazione da allora sembra peggiorare e così anche quello che ha detto la Madonna il 25 gennaio del 2023. Cioè la Madonna ha detto, ha fatto un'affermazione che io ho visto dal numero di quelli che hanno visitato i nostri social per cercare il messaggio, ha traumatizzato molte persone perché molti hanno cercato di leggere bene il messaggio, dove la Madonna dice, l'uomo moderno non vuole Dio e per questo va verso la perdizione. Cioè l'uomo moderno e l'uomo d'oggi è l'umanità intera. Poi per carità ci sono gli strati di persone povere che sono i poveri di Dio, possiamo ben dire, che sono il tesoro di Dio col quale farà un'umanità nuova. Ma l'umanità nella sua, quella che conta, c'è l'umanità che conta, sia essa in Europa, negli Stati Uniti, in Asia, ma perfino in Africa e in America Latina, per dire, i paesi più, meno intaccati, questo tipo di umanità, cioè l'umanità che conta non vuole Dio, non vuole Dio. Quindi sembra che la situazione vada verso un abisso. Io sono molto curioso, non curioso, ma comunque so che la Madonna nel giorno dell'annunciazione spesso ha dato messaggi, diciamo, traumatici. Vi ricordate cosa ha detto nel messaggio del 25 marzo del 2020? Satala regna. E adesso non mi ricordo bene del 2021, comunque da sempre messaggi profondi, molte volte drammatici, e voglio vedere cosa ci dirà adesso in questo prossimo messaggio dell'annunciazione. Cioè, cosa volevo dire? Che sembra quasi che, la Madonna ha detto, ascolto il vostro grido, però in realtà non solo la guerra è continuata, ma lo scivolamento dell'umanità verso l'abisso della perdizione, cioè del rifiuto di Dio, si è accresciuto, è accresciuto di velocità proprio. Cioè, al di sotto di quello che noi vediamo, dei fenomeni che noi vediamo, che è quello di un Occidente e di un Oriente contrapposti che minacciano una terza guerra mondiale, questo è quello che vediamo. Quello che ci raccontano i giornali, ma è anche quello che c'è in realtà. C'è ormai uno schieramento dell'Oriente, che è la Russia e la Cina, è quello dell'Occidente, che è l'Europa e gli Stati Uniti, poi uno dei suoi satelliti, poi i paesi non allineati lasciano il tempo che trovano, a mio parere, perché sta lì a aspettare le briciole che cadono dal tavolo, che abbiano desideri di conversione particolare, insomma. Quindi, praticamente, noi vediamo questa contrapposizione. Ma sotto, al di là di questi fenomeni, c'è qualcosa in comune a tutti, che è la guerra contro Dio. Cioè, l'umanità è unita nella guerra contro Dio, contro Cristo, contro la Chiesa Cattolica. E adesso, una possibile terza guerra mondiale, che in un certo senso molti dicono che c'è iniziata, come effettivamente è vero, una possibile terza guerra mondiale, nelle intenzioni di chi la promuove o di chi la minaccia, ha come scopo di stabilire chi è il padrone del mondo. Adesso, i padrone del mondo, ossia pure, diciamo, di metà mondo, comunque, sono gli Stati Uniti, chi aspira a diventare padrone di tutto il mondo, sono i due leader che si sono incontrati in questi giorni, cioè Putin e Xi Jinping. Cioè, la lotta è la lotta fra coloro che vogliono essere i primi, ma i primi al posto di Dio, compreso il leader russo, che a parole dice, non ho mai detto che ha la fede, però comunque, lo vedo con la candela in mano a Pasqua e a Natale, è a fianco di Kirill, però, in realtà, come abbiamo già detto mille volte, un cristianesimo di carattere messianico improntato al messianismo terreno, che in pratica è un cristianesimo etnico e politico, perché quello di Putin è un cristianesimo etnico, che riguarda il primato del popolo russo, e quindi il primato mondiale della Chiesa ortodossa, e quindi di lì il rigetto della Chiesa cattolica è il rigetto del primato della Chiesa cattolica, insomma, c'è un rigetto che ha percorso tutti i secoli, da come c'è la Moscova ad oggi, il rifiuto del primato del Papa, insomma, quindi, voglio dire, quindi, da lì non è che per me è una forma di... è una forma peggiore dell'ateismo, perché... peggiore dell'ateismo cinese, perché è una forma di, come dire, di deturpazione del cristianesimo, insomma, come gli apostoli che aspettavano che Gesù diventasse re e loro ministri, con i vari ministeri, insomma. Dunque, quello che volevo dire è questo, cari amici, la Madonna ha detto, il mio discorso è articolato, ma è importante, ma ne accorgo anch'io quando dico cose importanti, questa è una cosa importante, cioè, in pratica, in questo confronto che c'è del mondo, in realtà, sotto c'è una unità di fondo, che è la guerra contro Dio, sono tutti d'accordo che comanda chi vince, sono tutti d'accordo che comanderanno loro, non che comanderà Cristo, chiaro? E questo riguarda anche la Russia, vuole il primato nel mondo, il primato politico, il primato del comando, questo è... i due si appoggiano per questo motivo, insieme colpire, poi fra loro regoleranno i conti. Quindi nel mondo c'è questa competizione, cioè nel mondo c'è la guerra contro Dio che per loro è già finita, cioè Dio non c'è, entra Dio fuori, Dio non c'è. Siamo noi i padroni del mondo, l'uomo è il padrono del mondo, come ha detto la Madonna, l'uomo non vuole Dio, perché vuole essere lui il padrono del mondo, sono lì per decidere chi comanderà domani. Allora, la guerra contro Dio, la semifiche di andare avanti nel mio ragionamento, la guerra contro Dio, che è la piattaforma comune di tutta l'umanità, necessariamente è la guerra contro Cristo e contro la Chiesa Cattolica, perché, cari amici, naturalmente si bene, è avere una cosa ben chiara. La Madonna appare ai cattolici, la Madonna appare alla Chiesa Cattolica, la Madonna è la madre della Chiesa Cattolica, la Madonna è qui per sorreggere la Chiesa Cattolica nella grande prova. Le altre formazioni cristiane, contro i protestanti o teologiche che volete voi, si misurano, il loro rapporto con Cristo va misurato con il loro rapporto con la Chiesa Cattolica, perché, come ci ha raccontato Lucia di Fatima, nella visione che lei ha avuto nel tempo dei segreti, che è una visione che lei ha avuto nel 1945, che in qualche modo anticipava il tempo dei segreti, cioè nel cuore della catastrofe, si sente una voce che dice c'è una sola Chiesa, una Santa Cattolica, c'è una sola Chiesa, quella Cattolica, c'è poco da fare, con la Capio il Papa, qui noi cattolici, vogliamo mettercelo bene in testa, che questa è una verità di fede, questa è la volontà di Cristo, queste sono le parole che Cristo ha detto a Pietro, allora, questa guerra contro Dio, che l'umanità pensa di aver già vinto, poi di fatto diventa una guerra contro la Chiesa Cattolica, e la Chiesa Cattolica sarà perseguitata da ambe e due dischieramenti, signori, la Chiesa Cattolica sarà perseguitata dall'Occidente, non da tutto l'Occidente ovviamente, ma da quelli che hanno elaborato la nuova religione umanistica, c'è l'uomo al posto di Dio, quindi sarà combattuta da loro, come di fatto è già combattuta, magari con mezzi più o meno legali, però di fatto c'è una, chiaramente una intimidazione radicale nei confronti della Chiesa Cattolica, sul piano culturale, sul piano anche, diciamo così, dell'agibilità, sul piano della comunicazione, sul piano, insomma usano i mass media come fossero delle mitragliatrici, detto in parole povere. Quindi la guerra contro Dio del mondo diventa una guerra contro la Chiesa Cattolica da parte dell'Occidente, ma questo ce l'ha detto proprio Papa Benedetto in uno dei suoi ultimi scritti, Papa Benedetto ci ha detto che l'Occidente si vante di essere liberale e tolleranze nei confronti delle religioni, ma poi in realtà il suo obiettivo è quello di eliminare ogni traccia di cristianesimo. E ha detto, non è detto che non usi la forza per farlo, e di fatto in passato ha già usato la forza. Pensate alle rivoluzioni che ci sono state in Europa, principalmente quella francese. I tentativi di sterminio della Chiesa negli ultimi tre secoli sono succeduti, uno dopo l'altro, tutti volti allo sterminio della Chiesa Cattolica in Occidente. La medesima cosa, cari amici, faranno schieramento d'Oriente. Cioè lo schieramento d'Oriente anch'esso ha nel mirino la Chiesa Cattolica, come c'era in Cina, dove i cattolici devono vivere col permesso del Partito Comunista. La Santa Sede fa di tutto per garantire alla Chiesa un minimo di agibilità e anche un minimo di unità pensando a un futuro migliore. Ma poi sappiamo l'odio, il disprezzo e l'odio che c'è in Russia contro la Chiesa Cattolica. Queste sono espressioni di un grande storico come Roberto De Mattei, ma questo lo sappiamo tutti, insomma. Chi ha studiato la storia del cristianesimo russo sa che è stato lesto da appropriarsi un secolo dopo del titolo dell'Imperio Romano e anche ha preteso con la violenza un patriarcato che non aveva diritto perché c'è nessun apostolo che è morto a Mosca e che poi si è sempre opposto nel corso della storia a qualsiasi tentativo di unità mentre l'Ucraina mentre la Bielorussia hanno diritto. Noi sappiamo benissimo cari amici che questo è avvenuto e che sapremmo anche bene le profezie della Beata Aiello che per me sono molto attuali e per me non solo per me sappiamo benissimo chi ha organizzato l'attentato a Giovanni Paolo II quindi non facciamoci illusioni il cristianesimo etnico-politico russo ha in odio la Chiesa Cattolica e come ci ha spiegato Alessandro Dugin devono disinfestare l'Occidente e l'Europa dalla Chiesa Cattolica che è eretica e imporre a tutti la loro ortodossia cioè non vado oltre perché queste cose sono talmente evidenti che soltanto i ciechi non le vedono dunque questo è in realtà quindi praticamente noi andiamo verso un tempo in cui in cui c'è questa competizione mondiale per chi è primo a livello del potere umano inteso come potere assoluto in realtà c'è una una piattaforma comune che è che è l'anticristianesimo l'anticattolicesimo e questo anticattolicesimo si esprimerà nella persecuzione alla Chiesa Cattolica ma mentre loro combattono per stabilire chi è il primo arriveranno gli eventi dei segreti che sono talmente impressionanti perché Miriana ha detto che lei ha chiesto alla Madonna di apparire nel tempo dei segreti di confortare perché per sopportare il peso di questi annunci per cui il mondo vedrà che chi salva è la Madonna annunciando tre giorni prima gli eventi si vedrà la potenza di Dio si vedrà la potenza di Dio che si esprime attraverso Maria che indicherà la salvezza a eventi che esploderanno dal quarto al decimo non si sa dove a questo punto tutto il mondo potrebbe essere un teatro perché l'iscontro globale la persecuzione globale e questo ovviamente porterà alla conclusione che sappiamo la conclusione che sappiamo è duplice una carissima vincerà la Chiesa Cattolica con Maria e il popolo russo si convertirà questa è una bella notizia e tutti che mi state lì a criticare perché io sono non sono filo russo come lo siete alcuni di voi io non ho niente sono ben felice che il popolo russo alla fine si converte e diventa cattolico e venga il pellegrinaggio a Roma a baciare i piedi del Papa chiaro questo dunque è il quadro nel quale a mio parere ci muoviamo e che ho voluto oggi mettere a fuoco magari poi lo aprirò ancora e dedicherò un editoriale a questa tematica perché questa è l'improvvisata stamattina quindi perché mi è avuto in mente che siamo vicini all'annunciazione ma ho bisogno di elaborarla bene ne farò un editoriale per metterci ben davanti la prospettiva dal punto di vista teologico che comunque è una prospettiva di odio contro Dio di guerra contro Dio che diventa una guerra fra quelli che vogliono sostituire Dio qui su questa terra che diventa la guerra contro Dio diventa una guerra contro la Chiesa Cattolica ma alla fine la Madonna vincerà perché lei ci salverà dall'autodistruzione e alla fine anche la luce si convertirà poi questo è un miracolo perché si converte che cosa la spinge alla conversione lo vedremo però non possiamo che allegrarci di questo ovviamente non possiamo che allegrarci profondamente di questo io personalmente ne sono felice di questo bene carissimi questo dunque era il quadro che vi ho voluto anche perché oggi non so per quale motivo il giornale non parla più delle visite di Xi Jinping la Mosca improvvisamente è calata il silenzio generale su tutto non so per quale motivo però noi abbiamo una impostazione diversa quindi qui con l'angelo della Madonna di andiamo avanti a mettere in chiaro quello che è possibile mettere in chiaro io avevo intenzione di leggere oggi un articolo dei Mattei molto ben fatto alcuni mi dicono ma come padre lei a qualche tempo in qua cita dei Mattei ma lo cito perché non solo lui cito spesso anche padre Don Giuseppe Caprio quindi sono i due che più di tutti stanno analizzando anche dal punto di vista teologico il cristianesimo russo quindi ovviamente essendo ambe due persone quotatissime dal punto di vista della della conoscenza storica li prende in considerazione ovviamente De Mattei ha scritto un bellissimo articolo che ho messo anche sullo suo sito internet intitolato russofilia occidente e antiromanesimo quindi spiega De Mattei il fenomeno della russofilia in occidente il fenomeno dell'occidente che odia a se stesso e quindi l'attuale situazione però cari amici solo solo chi ha la grazia perché è una grazia di poter seguire i messaggi della regina della pace in grado di come dire a mio parere di avere una visione del futuro diciamo così che ci offre i messaggi della madonna e quindi che sono una fonte di conoscenza inestimabile allora adesso siamo arrivati alla fine della mia della mia conversazione non ancora perché adesso c'è il blog cari amici il blog è molto cresciuto in questi giorni io sono tutto felice perché il messaggio di Mirjana ha provocato più del doppio degli utenti del blog cioè gli utenti del blog mensili erano 49.000 sono diventati 116.000 in due giorni quindi non posso che essere felice di questo accredito che è stato fatto da parte di voi ascoltatori al blog la tabate lo merita a mio parere perché comunque è molto ricco di proposte e soprattutto anche molto ricco della vostra partecipazione allora vediamo come ho risposto alla lettera di Vincenzo di Pescara il quale mi ha scritto dicendo Padre Livio ci troviamo di fronte a eventi inimmaginabili quelli dei segreti che cambieranno radicalmente il mondo e la cui realizzazione matura di giorno in giorno la Madonna e le voci profetiche preannunciano guerre distruttive sanguinose e persecuzioni alla Chiesa di Cristo però lui dice queste tematiche che sono decisive per il futuro dell'umanità anche per la nostra vita personale interessano soltanto un numero esiguo di persone e poi dice o forse è meglio così per evitare che la gente si lasci prendere dalla paura e io rispondo perché ovviamente rivendico la necessità a mio parere di preparare la gente al tempo dei segreti anche perché il tempo dei segreti è un tempo di grazia è un tempo di liberazione è un tempo dei miracoli della Madonna certo ci sono anche gli eventi umani con cui Santa vuol dire il mondo ma la Madonna ci difende da tutto questo quindi in questa chiave si deve parlare dei segreti per quello che conosciamo e prepararci perciò rispondo a Vincenzo di Pescara caro Vincenzo la Madonna ha già rivelato tutto nei suoi messaggi anche se non è entrata nei particolari e più volte ha esortato a diffonderli questi messaggi perché le persone si preparino e non si lasciano deviare dagli inganni satanici nell'ora dell'odio e delle tenebre cioè la gente deve stare preparata sapere che la Madonna vincerà essere sicuri di questo sapere tutto quello che la Madonna ci ha detto al riguardo nel tempo dei segreti la Madonna non vuole impaurire ogni volta che fa rivelazioni drammatiche si affretta ad assicurarci con la certezza della sua vittoria Gesù stesso ci esorta a vegliare per non essere colti impreparati quando il nemico infernale passa l'attacco ci troveremo di fronte a un passaggio storico la cui posto in gioco va oltre ogni nostra immaginazione noi non possiamo neanche immaginare quello che succederà cari amici ma anche le cose grandiose che Dio compirà gli eventi maturano sotto i nostri occhi di giorno in giorno e quindi anche il momento in cui ognuno ogni uomo dovrà scegliere fra Cristo e Satana nel tempo dei segreti questo momento si avvicina rapidamente nei tre giorni degli eventi l'umanità è chiamata a decidere da che parte sta quello che noi possiamo fare fortificarsi nella nostra adesione a Cristo e a Maria cosa dobbiamo fare aiutare le persone che ci sono vicine a rinnovare la fede e la loro vita per il resto confidiamo nella Madonna che sta realizzando un piano di salvezza per tutti coloro che lo vogliono accogliere tutti quelli che si vogliono convertire si possono convertire ma attenzione che la conversione alla San Paolo è rara c'è un processo che inizia se noi non rispondiamo alla grazia rischiamo dunque mi sono arrivati alcuni ho pubblicato una lettera di una signora molto bella stamattina che ha paura eccetera volete essere consolata quella la lascio leggere a voi e anche un altro invece che è molto più interessante dal punto di vista diciamo così della prospettiva storica cioè praticamente un Maurizio da Milano mi fa una domanda che già era stata fatta in passato ma adesso nel contesto attuale ha acquistato un valore molto più importante molto più come dire attuale cioè la domanda è questa l'Italia sarà preservata dagli eventi dei segreti punto di domanda perché Maurizio da Milano fa questa domanda che mi pare che anche in passato avevamo affrontato allora carissimo padre Livio la ringrazio per tutti i suoi operati in modo particolare per il blog che è divenuto un punto di riferimento prezioso per tutti i fedeli della Gospa le scrivo in riferimento alla situazione mondiale che si sta rapidamente delineando come un confronto fra Oriente Russia-Cina e Occidente Stati Uniti e Europa che potrebbe sfociare in un conflitto mondiale spaventoso l'impressione è che c'è una volontà di arrivare una prova di forza decisiva per stabilire chi deve dominare il mondo è un pericolo questo che si pende sul nostro capo l'odio la superbia e l'arroganza hanno conquistato i cuori e con essi Satana persegue i suoi obiettivi di distruzione e di morte l'orizzonte della battaglia si sta allargando dice rispetto all'accelerata decisione della Russia di invadere l'Ucraina cioè praticamente con l'incontro attuale di Xi Jinping con Putin è chiaro che si è delineato uno schieramento preciso insomma quindi si va al di là della guerra in Ucraina cioè l'orizzonte si è allargato molto cioè l'orizzonte è quello della guerra universale della guerra mondiale allora lui dice in questa prospettiva lei ritiene ancora che sia l'Europa al centro dei segreti dal quarto al decimo oppure potrebbe essere il mondo intero divenuto teatro globale divenuto teatro dello sconto globale cioè praticamente chiede se gli eventi dei segreti potrebbero riguardare la Russia la Cina gli Stati Uniti o altre parti del mondo e mi dice in altre parole lei ritiene che l'Italia alla fine potrebbe essere preservata da eventi catastrofici che invece colpirebbero gli attori primari che sono come sappiamo certo c'è anche l'Unione Europea però è parente povero dunque in altre parole lei ritiene che l'Italia alla fine potrebbe essere preservata da eventi catastrofici che invece colpirebbero gli attori primari cioè Cina Russia e Stati Uniti di una venta guerra mondiale cioè in poche parole lui mi chiede se in questo sconto globale dove gli eventi dei segreti potrebbero accadere in qualsiasi parte del mondo l'Italia potrebbe essere risparmiata da eventi catastrofici ovviamente la prima cosa che dicono è la risposta è che questa domanda è una domanda alla quale non posso rispondere però possiamo fare alcuni ragionamenti vediamo quali i segreti come dicono i veggenti riguardano il mondo e la Chiesa cioè riguardano i venti di guerra e la persecuzione contro la Chiesa Cattolica chiaro questo? riguardano la guerra e soprattutto la persecuzione alla Chiesa Cattolica soprattutto perché mi ha detto guarda che riguardano più la Chiesa per quanto riguarda gli eventi di guerra per quanto riguarda gli eventi di distruzione è possibile che l'Italia sia preservata da vere e proprie catastrofi abbiamo tante postazioni mariane cioè postazioni mariane sono i santuari che fanno da baluardo invece per quanto riguarda la persecuzione alla Chiesa penso che il nostro paese sia il più esposto di altri per la presenza del Papa che è il capo di tutta la Chiesa Cattolica non dimentichiamo il segreto di Fatima il Papa viene ucciso quando arriva in cima al Calvario e Giovanni Pol II non è stato ucciso quindi non è lui quel Papa dunque invece per quanto riguarda la persecuzione alla Chiesa penso che il nostro paese sia più esposto di altri per la presenza del Papa che il capo di tutta la Chiesa Cattolica mi viene in mente Napoleone che cercò di portare il Papa prigioniero in Francia o Hitler che aveva un piano per rapirlo o chi cercò di uccidere Giovanni Paolo II per fermare il risveglio della Polonia e delle altre nazioni dell'est europeo c'è sempre stato nel corso della storia chi ha voluto mettere le mani sulla cateta di Pietro e questo è un pericolo più presente che mai è una mia opinione soprattutto a causa delle lobby e dei dittatori di turno soprattutto per noi italiani quindi sarà importante e decisivo restare saldi nella fede cattolica anche a corso della vita se necessario alla fine sarà proprio l'unica chiesa di Cristo quella cattolica che devo fare con Maria questa è la mia opinione come espresso in questa risposta a Maurizio da Milano così con questo ho sintetizzato tutti i discorsi che abbiamo fatto finora e quindi se volete vederla rileggerla e soprattutto magari passarla ad altri e andate sul blog blog di padelivio punto it se usate google se invece entrate nel blog attraverso attraverso il nostro sito che è radomaria.it cliccate in cima a destra c'è blog di padelivio entrate e leggete la risposta a questo interrogativo cari amici che non è di poco conto l'Italia sarà preservata dagli eventi dei segreti non eventi dagli eventi segreti non quelli che riguardano la guerra ma quelli che riguardano la persecuzione della chiesa questi no questa è la mia opinione cari amici con questo cari amici siamo arrivati al termine della nostra lettura cristiana della collega della storia vorrei dirvi carissimi che vorrei dirvi carissimi che siamo anche entrati ormai anche nella lettura d'arrivo verso la Pasqua e anche giunto il momento da parte di tutto il nostro popolo che ci ascolta di fare anche dare un sostegno straordinario a Radio Maria perché ne ha bisogno fra l'altro siamo anche tanto indietro rispetto al marzo dello scorso anno bisogno del vostro aiuto per andare avanti perché se non ci è tanti voi chi altro ci può aiutare e quindi è un appello che facciamo al quale avete sempre risposto per un dono speciale per la Pasqua cari amici poi adesso incomincia anche la stagione del 5x1000 vi ricordo anche quella e fatte anche conoscere il nostro 5x1000 ai vostri amici conoscenti potrei che si allarghi anche questa platea grazie cari amici per quello che farete per il vostro sostegno per il vostro amore per la Madonna per il vostro amore per la Dio Maria adesso chiudiamo e do l'appuntamento fra qualche minuto con la Catechesi con il nostro bellissimo libro di Catechesi Tempo di Fortezza a fra poco